Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati finalmente con le grandi Formula 1 di Centauria. Oggi andiamo ad aprire un'autentica icona, la Williams FV14B di Nigel Mansell, campione del mondo del 1992. Ve l'ho annunciata sui miei social come sempre, ve li lascio qui sotto anche se con un pochino di ritardo, perché effettivamente questa volta il mio edicolante si era dimenticato di mandarmi la foto. Di conseguenza ho pensato che non fosse arrivata, invece era arrivata, quindi sono andato poi di corsa in edicola e come sempre sto cercando di fare questo video nel maniera più tempestiva possibile, proprio per potervelo far vedere. Peraltro ci sono all'interno le decals, solo con i cammelli, però manca la scritta camel, perché nella versione, almeno in tre Gran Premi, se non sbaglio anche quello di Gran Bretagna, dove ci fu proprio una doppietta Williams, c'era soltanto il cammello, perché era vietato scrivere camel. E nonostante vi ho visti, vi ho sentiti un pochino con pareri divergenti fra chi preferisce le scritte camel o chi preferisce soltanto il cammello, devo dirvi che io metterò solo il cammello, perché la versione di questa macchina con queste prese d'aria, secondo me, è più adatta ad avere soltanto il cammello. Comunque adesso ci andiamo a scoprire questa macchina, poi andremo a scoprire anche successivamente le decals. Datemi qualche giorno per lavorare, ma faremo tutto. Ragazzi, ci spostiamo sotto ed andiamo ad aprire la Williams di Nigel Mansell. Allora, ragazzi, eccoci qui, che cosa è successo? È il più classico degli errori che fanno chi registra i video, ovvero inizia a registrare e si dimentica di premere REC. Ragazzi, ogni tanto succede ancora anche a me, voi mi direte, Vizio, ma dopo tutti i video che fai ancora ti succede? Sì, ancora mi succede, quindi che cosa è successo? La macchina è stata già aperta dalla sua confezione, quindi questo è il fascicolino che vi avevo raccontato appunto sulla Williams FV14B di Nigel Mansell. Allora, questa Williams era proprio una mia speranza, speravo tanto che uscisse, perché vi ricordate che uno dei primi numeri è stata la Williams di Piquet. Io decisi proprio di saltarla, quella macchina là, per due motivi principali. Il primo è perché sinceramente preferivo che uscisse o la Williams di Mansell, o in alternativa quella di Alain Prost, sempre con questa livrea gialla e blu. Vi ricordate, quella di Piquet era una livrea identica a questa. Sicuramente la macchina era molto differente a livello estetico, però diciamo che più o meno i colori erano assolutamente quelli. In più, la seconda motivazione è che Nelson Piquet, e questo mi allaccio anche alla prossima uscita, io lo vedevo decisamente più adatto sulla Brabham, quindi volevo la Williams di Mansell e volevo la Brabham di Nelson Piquet. Me le hanno fatte tutte e due e quindi appunto decisi di saltare quella di Piquet, la Williams di Piquet, proprio perché come sapete lo spazio è quello che è, peraltro adesso con l'uscita delle grandi Ferrari sarà veramente complicato. Comunque vabbè, affrontiamo un problema man mano, uno per volta. Quindi vi dicevo, i due motivi sono questi. Comunque raga, qua abbiamo un'altra macchina degli anni 90, io leggo tutti i vostri commenti, quelli che mi lasciate anche sui social, Instagram e cose, e mi sono reso conto che le Formula 1 anni 90, esattamente come piacciono tantissimo a me, piacciono anche tantissimo a voi. Quindi ogni volta che esce una macchina anni 90, vi devo ammettere che sono super contento, e di conseguenza, insomma, mettermi un'altra nella collezione, poi vicine, sono veramente clamorose. Guardate qua che spettacolo che è questa macchina. Peraltro mi riallaccio al discorso che facevo all'inizio video delle decals della camel. Vedete, in questo caso abbiamo la scritta camel, ho visto che tanti di voi le preferiscono, però sinceramente secondo me su questa macchina ci stanno bene quelle solo con il cammello, e sono quelle che poi fra qualche giorno andremo ad attaccare. Vabbè raga, qua è il 1992, il mondiale del leone d'Inghilterra, quindi devo dirvi che non ci sono molte cose da dire, sono sicuro che saprete già tutto quanto. Allora, nella confezione, in questo momento già me le sono perse, peraltro le avevo tolte le decals, eccole qua, sono comprese le decals appunto del cammello, che andremo ad attaccare prossimamente. Fateci attenzione, sono sotto la scatola, peraltro la mia nella busta stavano anche andando un po' in giro, quindi mi sono affrettato a toglierle per evitare che si piegassero. Va bene, allora adesso mettiamo il cartone per evitare che mi scappa il taglierino e taglio il tavolo, ed andiamo ad aprire la nostra Williams. Allora, primo taglio andato, secondo taglio malissimo, sono andato fuori, poi andiamo a fare il terzo taglio, e infine il quarto. Allora, raga, ho visto le foto, ho avuto modo di vedere le foto che sono state postate in giro per la rete, questa è una macchina clamorosa. Ok, togliamola dalla plastica, ovviamente compresa della plastica questa bruttissima che la circonda. Allora, chissà se nelle grandi Ferrari sarà compresa ancora questa plastica. Io francamente mi spero di no, perché ogni volta andare a svidare è una vera rottura, peraltro ho sempre paura di spanare la vite, quindi insomma non è una cosa che faccio molto volentieri, io preferisco tenerla direttamente sulla base. E come vi dicevo, le grandi Ferrari non lo so se ci sarà questa plastica, perché essendo munite di teca, già di loro, la speranza è solo che non arrivino le teche rotte, diciamo, è una grande paura quella. Però insomma, se radolgono questa plastica, mica sarebbe male. Allora, io direi che prima di analizzarla, facciamo una cosa, togliamo subito la plastica brutta, così poi ce la guardiamo per bene. Allora, pronti? E andiamo a svidare la nostra FV14. Allora, come vi dicevo, ho visto alcune foto, ed è bellissima questa macchina, quindi, visto che è piaciuta poi proprio a tutti all'unanimità, sinceramente non ho letto neanche un commento negativo a proposito di questa Williams, quindi insomma, ha davvero messo d'accordo tutti. Allora, togliamola. Eccola qua. No, questo lo possiamo tagliare qui. Eccola qua. Ragazzi, Williams FV14B Nigel Mansell. Allora, devo dirvi, ho già visto diversi dettagli, guardate che spettacolo questo dell'estintore, con proprio la leva che si poteva tirare. Poi ci sono anche i rivetti, che sono stati realizzati abbastanza bene. Qui purtroppo abbiamo una sorta di spaccatura, vedete? Sia qua che di qua, c'è questa sorta di spaccatura. Adesso io non ho proprio perfettamente in mente l'originale, però non credo ci fosse questa spaccatura così evidente. Però potrebbe anche essere, perché comunque il cofano motore magari si staccava solo su questa parte. Non lo so, però credo che sia più un difetto di fabbricazione, quindi si vede un po' che non è perfettamente allineata la pancia laterale con il cofano motore. Comunque, visto che ci siamo, andiamo a guardare l'interno della macchina, abbiamo le decals delle cinture, vediamo anche, guardate lo sterzo ragazzi, si intravede qui, la camera va un po' a coprire, guardate un po', è stato anche colorato, ci sono diverse parti colorate, vedo una parte azzurra, una parte gialla, una bianca, molto carina, ci siamo. Poi andiamo a guardare le sospensioni che, vabbè ragazzi, risultano abbastanza plasticose, su questo non c'è dubbio, non possiamo negare questa cosa. Però dai, fondamentalmente sono realizzate bene. L'ala posteriore mi piace, è anche abbastanza fine, quindi mi sembra realizzata molto bene. L'antenna era leggermente storta, vedete ragazzi, la mia antenna è leggermente leggermente storta, non andrò neanche a toccare, perché sinceramente ho paura che si possa danneggiare. Come vi avevo già raccontato negli scorsi numeri, purtroppo ragazzi, me ne sta arrivando solo uno in eticola, quindi non posso scegliere. Ah, peraltro avevo visto già in eticola un piccolo difetto di colorazione, mi sembra su questo punto, vedete? Ragazzi, c'è questo graffietto nero, anzi no, forse è solo sporco. Sì, 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 perfetto. Era soltanto sporco, l'avevo vista in eticola, credevo fossero dei graffi, in realtà era dello sporco, perché vedete, è venuto via, perfetto. Quindi, sotto questo punto di vista, non mi posso lamentare, ah, stavo guardando anche le gomme, che non hanno la solita riga bruttissima che abbiamo visto ultimamente, mi piacciono, o meglio meglio così, con la slick completamente liscia. Poi andiamo a guardare il retrotreno. Allora, ragazzi, la parte del diffusore risulta sempre molto plasticosa, su questo l'ho visto, su quasi tutti i modelli, che siano una 18, una 24, una 43, fa poca differenza, il diffusore posteriore molto spesso è plasticoso. Devo dirvi che anche il faro posteriore è praticamente una decals, immagino, comunque è verniciato. Sapete che io preferisco sempre la plastica rossa trasparente, che dà un effetto molto migliore, quindi diciamo che anche sotto questo punto di vista è un po' cheap, ecco. Però, tutto sommato, e fondamentalmente, la macchina mi sembra un modello veramente super super bello, quindi sono soddisfatto. Allora, adesso facciamo una cosa molto semplice, e la andiamo a riposizionare sulla base, quindi vediamo di non sbagliare, dovrebbe essere questo il punto. Ok. Quindi andiamo a riposizionare la macchina e procediamo quindi poi con riavvitare. Allora, diamo semplicemente una piccola punta sia davanti che dietro, ok, e poi proseguiamo. Peraltro, qualche giorno fa, adesso non mi ricordo bene chi, ma un ragazzo mi ha scritto che per fare questa operazione ha danneggiato l'ala posteriore. Purtroppo, ragazzi, ci dovete stare attenti perché questa cosa può succedere, assolutamente può succedere, perché voi quando andate a piegare la macchina ci dovete fare attenzione su questo, non c'è alcun dubbio. Comunque, con la scusa, io mi sono procurato anche la FV14 in scala 1 a 43 che avevo collezionato nella vecchia Formula 1 Auto Collection. Andiamo a vedere qualche differenza se ce n'è. Allora, sicuramente manca l'antenna, vedete, è priva di antenna questa in scala 1 a 43. Per il resto devo dirvi che mi sembra molto simile. Sicuramente, guardate come è più plasticosa l'ala anteriore, guardate come è fatta meglio questa in scala 1 a 24. Per il resto le macchine mi sembrano abbastanza in linea. Anche la parte posteriore, vedete, con il rosso proprio similissimo, il farino rosso similissimo a quella 1 a 24, quindi diciamo che il modello si somiglia davvero tanto. Una differenza però che possiamo assolutamente notare è per quanto riguarda la presa d'aria. Vedete come questa presa d'aria è aperta sulla pancia laterale, mentre invece qui sulla 1 a 24 è completamente chiusa. Questo è un dettaglio peraltro in più che mi ha fatto pensare che secondo me la cosa migliore era proprio mettere le decals con il cammello normale, va bene? Non la scritta camel. Mentre invece questa con le prese d'aria aperte forse è meglio con la scritta camel proprio, va bene? Quindi questi sono dettagli, sapete che poi alla fine chi colleziona sta attento a capire se la macchina può essere riferita a qualche gran premio nello specifico di conseguenza seppur devo ammettere che la scritta camel è più bella però secondo me è meglio mettere soltanto il cammello. Comunque adesso andiamo ad aggiungere la teca che come sempre vi ricordo ho preso da Model Car di Pietro lo potete trovare su Facebook ma anche sul video che vi lascio qui sopra lì troverete il link a solo 4 euro quindi dai ci possiamo stare eccole qua le due Williams FV14B di Nigel Mansell 1992 campione del mondo sia in scala 1 a 43 che in scala 1 a 24 mi raccomando come sempre lasciatemi un commentino e fatemi sapere che cosa ne pensate e dunque cari ragazzi anche per questo video è davvero tutto io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite e se questo video vi è piaciuto lasciate un like bellissimo come questa Williams mi raccomando fatemi sapere se avete preso anche voi questo modellino se state continuando la collezione lasciatevi sempre un bel commentino qui sotto io vi do appuntamento con due episodi il primo con i cammelli delle camel delle sigarette che andremo a attaccare in un nuovo time today e poi ci rivediamo fra due settimane quando arriverà la brama di Nelson Pichet assolutamente da non perdere qui da Visio e dalla Williams di Nigel Mansell è davvero tutto io vi mando un grosso saluto ciao ciao